ben ritrovati carissimi amici di fanta world siamo nuovamente al bar perché quando succede qualcosa quindi quando arriva un giocatore quando se ne va un giocatore quando arriva un allenatore come in questo caso o quando viene esonerato un allenatore noi solitamente analizziamo la squadra interessata ovviamente che diciamo si spera che a livello fantacalcistico possa avere magari una rinascita in questo caso oggi ci occupiamo all'interno del bar di fanta world di di viaggio che è il nuovo allenatore della spal e quindi parleremo a livello fantacalcistico della squadra che è praticamente il fanalino di coda della nostra serie a speranza di questa spal che dite prima di iniziare a dare al solito consigli per gli acquisti subito flash si può salvare io direi tanto che di piaggio non mi piace quindi rintroduco già così benissimo finisce il video sto per dirvi che sarà ci vuole un miracolo sì ci vuole un miracolo è stata una follia sulle erate semplici comunque è il miracolo che secondo me non accadrà vogliono gli spalli ora 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 ne parliamo ora ne parliamo la prima di iniziare però il nostro consiglio è sempre quello ovvero quello di scaricare l'app one football trovate i link in descrizione sia per android che per ios quindi andate in descrizione cliccate vi porta allo store potete scaricare un'app molto utile che appunto serve per esempio a tenersi aggiornato per esempio su una notizia di questa ad esempio questa notizia qua ovvero i cambi in panchina comunque news sul calcio mercato sul calcio in generale della nostra serie a e non solo allora ritorniamo alla spal cominciamo a parlare di questa spal allora la nuova spal di di viaggio allora io di viaggio sinceramente a me piace più di rispetto a semplici perché è un giocatore molto più propositivo già solo solo il modulo che lui fa di solito ovvero il 4 3 3 è un modulo più propositivo rispetto a 3 5 2 di di semplici e avere anche gli uomini giusti esattamente questo è un tema che ovviamente andremo andremo a toccare perché appunto questa questa spal piena zetta praticamente di difensori centrali quindi di caricione che tomovic bonifaxi e diciamo sono moto lipe giocano giocano mi sono 6 7 direzioni centrali poi abbiamo qualche terzino che terzino non potrebbe neanche essere definito come rezza o fares o fares che diciamo sta tornando l'importunio ma chissà quando quindi diciamo fare questo 4 3 3 per di viaggio se non me non sarà così semplice ovvero io vedo una linea 4 con tomovic a destra ovviamente adattato l'ha fatto qualche volta la fiorentina si ma i risultati ma con risultati disastrosi poi vedo vicari e bonifaxi centrali e solo nulla da dire e poi rezza a sinistra diciamo questa vedo come linea 4 di un possibile cambio di modulo perché io comunque come tu mi hai detto anche fuori onda che è seconda volta di viaggio giustamente partirà ancora con 3 5 2 sì perché comunque deve partire dalle certezze che non sono tante però è una squadra costruita già da due anni per giocare a tre anzi da tre anni dalla serie B quindi non so se da al nulla non si possa ravvolgere così diciamo allora tornando un po' a parlare della difesa a 4 possibile che magari in futuro ovviamente potrebbe fare se gioca a 3 diciamo che gli uomini sono quelli quelli che aveva lasciato semplici come con strefezza largo trezza dalla parte e strefezza dall'altra senza dubbio dicevo Claudio se gioca a 4 quindi con vicari e bonifaxi che comunque è una buona coppia di centrali difensivi per esempio secondo te chi ha cionec chi ha tomovic e tutti questi qua ovviamente vanno assolutamente svincolati vabbè già erano da svincolare da prima ecco tomovic e cionec non sono giocatori davanti a calcio al massimo proprio tappa booking da che numerose si magari a 12 diciamo che infatti gli uomini ci sono appunto bonifaxi e soprattutto e vicari da tenere si bonifaxi comunque un po' più avverso il bonus rispetto rispetto a vicari anche il nuovo zucano che ci fa adesso anche perché non ha praticamente trovato spazio per cui diciamo bisogna vedere anche lui paradossalmente è meglio lui come terzino sinistro almeno non potrebbe essere più attento alla fase difensiva ecco perché sia a rezza che a fares perché fares comunque è in procinto di rientrare ne ha già parlato ne ha già parlato anche di bianco sono due giocatori che sono perfetti a tutta fascia ma non con compiti difensivi quindi sì ovviamente è strano quindi potrebbe anche mettere zucano che c'è da giocare a sinistra diciamo un terzino più bloccato a meno che è un azzarda ecco un 3-4-3 ecco lo butto difficile secondo me ci sono gli esterni ci sono e il tridente dato che comunque difficile 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 secondo me che faccia il 3-4-3 poi ovviamente tutto è possibile diciamo che restando ancora in questo in questo diciamo simile 4-3-3 che abbiamo pensato dopodiché a centrocampo abbiamo pensato ovviamente a due mezzali come piacciono al di viaggio due mezzali comunque devono sia inserirsi che giocare quindi castro da una parte e murgia e murgia o valoti volendo dall'altra perché murgia volendo può fare anche il mediano davanti alla difesa cosa che secondo me all'inizio farà mistiroli e c'è anche valdifiori che è uno che può tornare un po in auge anche se sempre con senza aspettarsi tanto al fantacalcio dicevo non è più valdifiori del lento tu lo avevi ti ricordi no? infatti niente male quell'anno insieme a tanti altri quanti assist ha fatto quell'anno avevo vinto 7-8 assist al fantacalcio sicuramente tanti assist si dicevo di murgia perché era un fedelissimo di di viaggio depitando il 21 quindi lo conosce bene però le mezzali non mancano ecco perché castro valoti d'abbo anche esatto anche d'abbo cioè abbondanza da questo punto di vista diciamo in un 4-3-3 comunque lì puoi piazzare quindi almeno al centrocampo e anche 35-2 diciamo sono quali esatto sì perché uguale poi alla fine sono mezzali e il mediano poi diciamo un tridente ovviamente il punto fermo ovviamente è Petagna Petagna non si tocca anche con di viaggio resterà rigorista ovviamente anche può avere più rifornimenti secondo me adesso secondo me pure secondo me pure e poi potrebbe giocare Strefezze a destra e Di Francesco a sinistra perché comunque sia Strefezze che Di Francesco sono praticamente delle ali assolutamente perché sono giocatori che ti saltano l'uomo ti puntano vanno sul fondo rientrano per cui ma Di Francesco l'aveva già abituato a questo ruolo appunto come tridente ci siamo sì il tridente e il centrocampo secondo me in un 4-3 ci possono stare il problema è e io ti dirò di più non sono neanche da ultimo posto in Serie A questo tridente e questi tre centrocampi perché Strefezze l'abbiamo visto solo in un centrocampo a 5 però da quello che abbiamo visto cioè personalmente ha poche qualità difensive ma molte offensive e quindi sfruttalo più avanti quindi sfruttalo di un trinante quindi poi c'è una buona soluzione prefisco sicuramente questi giocatori che ha quelli del Genoa sì ad esempio appunto quindi diciamo che se noi partiamo da questo aspetto se guardiamo da questo punto di vista io credo che la SPAL ovviamente resta un'impresa un'impresa perché le altre squadre perché anche la fanno male sì a sempre diciamo il livello perché anche il Lecce per esempio attualmente sta facendo molto bene diciamo purtroppo ne cedono tre chi è che c'è che retrocede esatto quindi è molto è molto complicato però chissà diciamo magari ritrovando il gioco ritrovando un certo entusiasmo comunque ad esempio lo stadio della SPAL secondo me è anche uno dei più calorosi perché il Mazza sono tutti i tifosi lì non ancora è fattivo l'anno scorso è stato anche qualche scontro salvezza secondo me è lì può andarselo a giocare molto molto la SPAL di per sé non ha una brutta squadra però appunto non mi è piaciuto questo cambio così perché comunque semplice era molto legato anche i giocatori erano molto legati assolutamente quanti anni le ha portati dalla cindola appunto quindi non so effettivamente come reagiscono adesso a questo cambio sì lo so però comunque di viaggio parte per tentare appunto questa questa impresa ovviamente lo tenta ovviamente il giocatore di maggior spicco resta Petagna quindi il giocatore di che salgono rispetto ad adesso direi Petagna io direi anche strepezza perché il centro campo in questo senso diventa ovviamente un valore aggiunto anche di Francesco secondo me anche Bonifazzi sale perché o a tre o a quattro secondo me gioca e lui secondo me andando a saltare comunque è un giocatore che si fa valere secondo me è più adatto a tre ha sempre giocato a tre secondo me pure però diciamo Castro per gli inserimenti Castro secondo me può salire anche perché diciamo non ha fatto benissimo neanche Acai rigiocava per cui diciamo meno di così non può fare quindi per forza deve salire mentre chi scende sicuramente possono essere per esempio Reza i terzini questi adattati Togovic Cionec difensore sì praticamente i difensori sì quindi è anche per esempio lo stesso non so anche non so Valotti che magari prima poteva essere sicuro titolare adesso avrà molta concorrenza con Buzo che può fare con Dabbo Dabbo secondo me invece è in calo perché giocava con semplici ma adesso non lo vedo perché di viaggio gli piacciono l'abbiamo visto all'Under 21 che preferiva quindi lui è quello che può risentire non l'avranno in tanti preso però è giusto dirlo può risentirlo infatti quindi Dabbo comunque può essere uno di quelli che diciamo da pollice in giù in questa ultima parte di stagione quindi questa diciamo la situazione in casa Spal vedremo come andrà il campionato noi saremo qui ovviamente a commentare poi ogni giornata ovviamente vedremo come anche durante il solito del fantacalcio qualche commento vediamo già da questa partita con Lecce appunto da questo scontro diretto salvezza per esempio nonostante si giochi intraspetta ma vedremo cosa riuscirà a portare di viaggio quindi in bocca al lupo ovviamente al nuovo tecnico della Spal vedremo se riuscirà a fare il miracolo ovviamente commentate soprattutto i tifosi ferraresi che magari ci seguono qualcuno di Ferrara che ti fa Spal magari commenta chi potrebbe ci dice la sua perché loro ovviamente conoscono l'ambiente più da vicino rispetto magari stiamo sbagliando ipotesi e ci sono c'è qualcosa altro dietro appunto magari c'è gente che lo sa ovviamente meglio meglio di noi quindi commentate ovviamente sotto tutti i nostri post sia su Facebook che su Instagram che su YouTube iscrivetevi al canale attivate la campanellina e che dirvi ovviamente grazie per questa analisi sia a te che a Claudio se ti piace ovviamente il bar come sempre lo chiudiamo ci vediamo poi in vista di un altro bar sì ovviamente ci vediamo a semplice di ritornare alla Spal potrebbe essere potrebbe essere appunto per esempio Brescia con Corini che è tornato più volte vedremo un po' come andrà a finire esatto un saluto da Fanta Fanta grazie a tutti